Siamo con Vincenzo Di Gregorio, detto Enzo, candidato al Consiglio regionale pugliese con il Partito Democratico. Abbiamo parlato in una delle precedenti interviste di sviluppo economico ed occupazione. Questo sviluppo economico deve necessariamente passare attraverso la risorsa turismo. Una risorsa turismo che deve essere potenziata nell'area ionica e per la città di Taranto in particolare. Ma assolutamente, finalmente si riesce a fare squadra tra tutti gli enti preposti, i comuni di tutta la provincia. Abbiamo un aumento di turisti veramente importante come presenza al castello, al museo, in città vecchia. Speriamo che presto si possano avviare questi cantieri in città vecchia che potrebbero cambiare le sorti della città. La presenza di queste navi da crociera, anche se pur piccole, sono un momento importante di novità per la città. Ho visto gli operatori economici organizzati, i calessini, i negozi che finalmente hanno un atteggiamento diverso, l'atteggiamento giusto perché Taranto deve crescere e può crescere.